Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Italian Fantasy New Show, la vostra fonte di notizie dal mondo nerd. Questa sarà una puntata parecchio parecchio agrodolce, forse più di tutte quelle che finora abbiamo registrato, perché ci sono tante notizie davvero molto 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 felici, altre purtroppo che sono state delle vere proprio pugnalate al cuore, quindi io direi di non perderci in chiacchiere, prendetevi appunto una tazza di tè, qualsiasi cosa, e cominciamo a vedere quali sono le novità riguardanti libri, serie tv, film, eccetera, eccetera, nell'ultimo periodo. Partiamo proprio con la notizia più brutta che potessimo avere, la notizia che credo tutti noi, compreso me, stavamo aspettando perché era dietro l'angolo, ovvero Dune. Il film di Dune è stato rimandato e non di qualche mese, ma da dicembre 2020 è stato rimandato il primo ottobre 2021. È stato rimandato di ben dieci mesi e questo ovviamente è dovuto alla situazione del virus che purtroppo sta impedendo a parecchi film, come vedremo, di essere rilasciati. Ovviamente con Dune il discorso è accentuato anche dai costi di produzione che ci sono dietro e ovviamente il mercato americano è molto importante per quanto riguarda il botteghino. Rilasciare adesso un blockbuster come Dune sarebbe stato parecchio parecchio complicato, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi tutto questo, quindi riparleremo di Dune l'anno prossimo. Questa è una notizia che mi frantuma in due il cuore, ma purtroppo era prevedibile, cioè io me l'aspettavo da un momento all'altro che la notizia sarebbe arrivata. Di certo non immaginavo che fosse rimandato di ben dieci mesi, sono veramente veramente molti. Questa sorte tocca un altro film che sicuramente tanti di noi stavano aspettando, ovvero il nuovo The Batman con Robert Pattinson, che era previsto per l'anno prossimo, in modo particolare il primo ottobre 2021, ma c'è stato uno switch appunto con Dune. Questo nuovo Batman è stato rimandato direttamente al 2022, al 4 marzo. Lo slettamento di questo film è in minima parte forse anche dovuto ai problemi che ci sono stati con Pattinson e quindi al rallentamento delle riprese. Staremo a vedere, anche questo lo aspettavo tantissimo, ma se ne riparla tra un anno e più, più di un anno, è una cosa molto molto triste. Stessa cosa per quanto riguarda il quarto film della saga di Matrix, che uscirà il primo aprile 2022. Anche qui ha voglia da aspettare. È stato anche rimandato Wonder Woman, forse ne avevamo già parlato. Doveva uscire infatti questo periodo, ma questo uscirà in tempi più recenti rispetto agli altri di cui abbiamo parlato. Infatti uscirà al cinema il 14 gennaio, quindi dobbiamo aspettare ancora un po', però tempi relativamente umani. Purtroppo è arrivata anche la notizia per quanto riguarda Black Widow, che doveva uscire il 6 novembre 2020, ma ovviamente abbiamo avuto un ulteriore rimando. Ricordo che questo film doveva uscire a marzo 2020, ma con tutta la situazione è stato rimandato a novembre e ora è stato nuovamente rimandato al 7 maggio 2021. Che a me mi sembra un attimo una cosa esagerata, tutto questo rimando per Black Widow, però vabbè. Tra l'altro lo slittamento di Black Widow significa anche che tutti gli altri film Marvel che erano stati appunto programmati per uscire al cinema nel corso del tempo, saranno rimandati, prima fra tutti gli Eterni, che io sto aspettando come poche cose al mondo, che uscirà il 5 novembre 2021. Ha slittato anche Assassino sul Nilo, ovvero il nuovo film con protagonista però dai romanzi di Agatha Christie, ma anche questo in tempi sicuramente più umani. Infatti si tratta di qualche mese. Doveva uscire il 23 ottobre 2020, ma uscirà invece il 18 dicembre 2020, che tra l'altro come periodo secondo me è anche migliore. Quindi forse c'ha solamente che guadagnato. Noi dovremmo aspettare solamente un mese o due mesetti in più. E infine abbiamo notizie anche sul nuovo film della Pixar, Soul, da i creatori di Inside Out, che doveva uscire al cinema, ma invece non sarà più così. Anche Soul, come è stato per Artemis Fowell o per Mulan, uscirà infatti direttamente sulla piattaforma streaming Disney Plus il 25 dicembre, quindi il giorno di Natale, e questa volta siamo fortunati perché non avrà un sovrapprezzo. Non ci sarà quindi l'accesso VIP come è stato per Mulan, ma sarà semplicemente reso disponibile a tutti gli abbonati di Disney Plus. Ammetto che sono da una parte felice di questa cosa e da una parte un po' di meno perché avrei adorato vederla al cinema, sto aspettando anche questo film tantissimo, però almeno l'uscita non è stata slittata ulteriormente e lo avremo finalmente a dicembre di quest'anno. Parliamo di libri. C'è una notizia molto interessante perché a quanto pare la Spellian Kaffer ha acquistato i diritti per il nuovo libro di Alexander Brayken, ovvero l'autrice di Passenger e del più famoso The Darkest Minds. A inizio 2021, forse se non sbaglio proprio a gennaio, in America infatti uscirà Lore, il nuovo libro di Alexander Brayken che è ambientato nell'antica Grecia dove andremo a seguire la storia di nove divinità greche che per punizione e per la loro ribellione vengono mandati sulla Terra come mortali. Questo romanzo mi ispira da quando è stato annunciato e sono molto felice che la Spellian Kaffer appunto lo porterà direttamente anche in Italia. Non si sa ancora quando sarà la pubblicazione italiana, ma comunque sappiamo che arriverà. Un'altra bellissima notizia che farà felici penso parecchie persone perché questi libri sono diventati un po' introvabili, l'Oscar Volta ha annunciato che ristamperà l'intera trilogia di Illumine File, DJ Christophe e Amy Kaufman, questa volta però in brossura. La prima volta quindi avremo questa trilogia in paperback, tra l'altro in Obsidio sarà presente anche Memento, ovvero la novella che in Italia era ancora inedita. Avete 495 dollari che vi avanzano perché dovete sapere che Folio Society ha buttato fuori un'edizione speciale di Dune e di Frank Herbert che ha questo prezzo e che è qualcosa di meraviglioso. Vi lascio sotto il video per vedere questa edizione bellissima che purtroppo è improponibile, è un prezzo veramente esagerato. Faranno solamente 500 copie e credo che a questo punto potrebbero essere anche sold out, ma se volete soffrire e rifarvi gli occhi sottotrovate il video. Questi ultimi tempi per Rick Riordan è il limite del possibile e sono comunque abbastanza felici perché dopo la notizia che Disney svilupperà la serie su Percy Jackson, la fine della serie di Apollo e quindi la fine dell'intera serie di Percy Jackson, arriva un'altra notizia che riguarda proprio Rick Riordan. Infatti la sua serie The Kane Chronicles diventerà una serie tv per Netflix. Non si ha ancora notizia in più su questo nuovo progetto di Rick Riordan. The Kane Chronicles è un'altra delle serie di Rick Riordan, questa volta però si sviluppa intorno agli dei egiziani. Tra l'altro ci sono anche serie dei crossover con Percy Jackson. Io non ho mai letta, ma devo dire che ora ci ho messo un po' il naso, quindi magari chissà in un futuro potrei anche leggerla. Il pantomatico libro dell'anno, ovvero il nuovo libro di Vittorio Schwab di Invisible Life of Eddie LaRue è uscito e uscirà il 17 novembre anche in Italia. Ma queste sono ormai notizie vecchie perché recentissimamente è stato annunciato proprio da Vittorio Schwab stessa che uscirà anche il film di questo Invisible Life of Eddie LaRue che io non ho ancora letto e sono molto curioso di farlo a questo punto, voglio capire il capolavoro che si nasconde dietro queste pagine, ma appunto la notizia è questa. Ci sarà un film, tra l'altro sarà proprio la Schwab a scrivere la sceneggiatura, non sappiamo ovviamente la data di uscita né niente, però se qualcuno di voi ha già letto i libri Amato Eddie LaRue sicuramente sarà notizia più che felice. E io devo dire che invece sono molto più felice per quest'altra notizia che sto per darvi, perché Priest of Bone diventerà una serie tv. Questo è un libro che purtroppo non è edito in Italia, che a me ha sempre incuriosito tantissimo e che spero di leggere al più presto. Questo adattamento sarà prodotto da Heyday Television che, ecco, tra i tanti ha anche prodotto Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino e Marriage Story, quindi due titoli da niente. Sono molto molto curioso, anche qui non abbiamo nessuna notizia in più. Spero di poter leggere il libro al più presto perché mi incuriosisce davvero tanto, sarà una delle priorità del 2021. Altro adattamento da parte di Netflix, ovvero quello di una serie tv su Conan il Barbaro. Protagonista della serie di libri di Robert A. Howard e, tra l'altro, protagonista anche di un film, forse anche più famoso dei libri stessi, Netflix ha deciso di produrre questo live action su cui anche qui non abbiamo nessuna notizia in merito. Continuiamo con Netflix, continuiamo con un altro adattamento di libri che uscirà su Netflix prossimamente. Si tratta della serie di libri Young Adult, Uglis, di Scott Westerfield. Adattare la sceneggiatura del romanzo sarà Krista Bernhoff, che forse molti di voi, me compreso purtroppo, conosce per Grey's Anatomy. Non ho mai letto questa serie di libri che, tra l'altro, è pubblicata da Mondadori, ma Scott Westerfield è un attore che ho apprezzato moltissimo in passato e ho sempre sentito cose molto molto positive su Uglis e il messaggio che vuole mandare. E parliamo di The Witcher con la seconda stagione, che arriverà l'anno prossimo con ogni probabilità. Sono infatti state pubblicate delle nuove immagini dei nostri tre protagonisti principali, ovvero Geralt, Ciri e Yennefer, direttamente dal set. Devo dire che ogni foto mi ha colpito parecchio in modo particolare Ciri, che in questa seconda stagione avrà un ruolo completamente diverso da quello che è stata nella prima stagione, quindi sono molto curioso di vedere poi. Spero vivamente che questa seconda stagione si rialzi un po' rispetto alla prima, ma che vadano un po' ad aggiustare il tiro rispetto appunto a quella che è stata la prima stagione. Passiamo al Disney+, passiamo alla Marvel e quindi ritorniamo anche ai supereroi, perché abbiamo un'etizia per quanto riguarda She-Hulk. She-Hulk infatti è una delle serie TV Marvel annunciate che usciranno prossimamente su Disney+. Non abbiamo ancora traccia di nessuna serie Marvel su Disney+, ha un anno e più che è uscito, ma ok. She-Hulk appunto va a raccontare la storia di questo Hulk al femminile, che non è altro la cucina del nostro Bruce. Tutte le serie annunciate da Disney+, sulla Marvel, quella di She-Hulk era quella che mi interessava di meno, devo essere sincero, ma con questa notizia le carte sono decisamente cambiate. Perché interpretare la nostra nuova Hulk sarà Tatiana Maslin di Orphan Black, un'attrice sensazionale che io appunto ho avuto modo di conoscere grazie a Orphan Black, in cui ha fatto un lavoro magistrale. Quindi adesso ho una certa curiosità nel vedere lei come questa She-Hulk. Sono molto, molto, molto curioso e sicuramente ha alzato un po' l'eye per rispetto all'inizio, quando non avevamo nessuna notizia per quanto riguarda il cast. Continuiamo a parlare di supereroi e spostiamoci questa volta a Spider-Man. Ogni volta abbiamo qualche notizia su questo terzo film di Spider-Man, che a quanto pare non ce la fa, ma questa volta è una notizia molto, molto bella, perché si aggiungerà al cast del terzo film di Spider-Man, Benedict Cumberbatch, che ovviamente ritorna a vestire i ruoli di Doctor Strange. Da quello che sappiamo sarà per Spider-Man un nuovo mentore, come è stato un po' Iron Man negli altri film. Sono davvero molto contento di questa notizia, adoro Benedict, adoro il personaggio di Doctor Strange. Continuiamo con i supereroi, questa volta però leggermente diversi da quelli di cui abbiamo parlato adesso, perché parliamo di The Voice, la serie tv di Amazon Prime, che ultimamente è finita con la sua seconda stagione e spero prestissimo di rivederla con la terza che è stata già annunciata. E tra l'altro, visto il grandissimo successo che sta ottenendo, è stato annunciato anche uno spin-off dedicato alla serie. Spin-off che si concentrerà su questo college di supereroi di super, che è gestito dalla Vogue International. Sapete quanto io ami queste ambientazioni scolastiche da accademia, college, scuole magiche, eccetera, eccetera. Quindi questo spin-off mi ha fatto sicuramente molto felice. The Voice è un prodotto eccezionale, quindi spero che con questo spin-off riescano a mantenere i livelli della serie madre. Parliamo ancora di supereroi, questa è l'ultima, ve lo giuro. Parliamo di Miss Marvel, che sarà un'altra delle serie tv Disney+. Infatti è stata scelta l'attrice che interpreterà il ruolo principale. Si tratta di Iman Vellani, che io non conoscevo, e devo dire però dalla fisionomia ce la vedo particolarmente interpretare questo personaggio di cui ancora sappiamo veramente molto poco. Segue i fumetti ovviamente la conoscerà molto molto bene, però per chi segue invece solamente i film della Marvel, è un personaggio tra virgolette inedito. Ok, forse la notizia più bella di questa puntata, perché abbiamo la prima e fugace immagine dal set della Ruota del Tempo. Infatti è stato pubblicato questo mini video dove per la prima volta, per qualche secondo, vediamo una delle case di Ammons Field, ovvero il luogo dove tutta la storia della Ruota del Tempo inizia. Il video che mi ha fatto un certo effetto, vediamo questa casa, questa fattoria in lontananza, non proprio nemmeno zoomata, e presumo che sarà appunto la fattoria proprio di Rand. Devo dire che è stato davvero molto molto di impatto, per quel poco che si è visto, devo dire che mi è piaciuta davvero tanto questa scenografia, quindi sono molto curioso, spero di avere notizia il più presto su questa serie che sto aspettando davvero davvero tantissimo. E siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata, ovvero i trailer. Ne sono usciti diversi, molto molto interessanti, e partiamo da quello di The Watch. The Watch sarà una serie BBC che uscirà il 3 gennaio, e sarà un adattamento più che altro prende ispirazione dal mondo disco di Terry Pratchett. Racconti infatti la storia di questo dipartimento di polizia, di questi misfits, che appunto fanno parte dell'universo del mondo disco di Pratchett. Il trailer mi piace tantissimo, tra l'altro qualche tempo fa erano uscite anche delle immagini davvero molto molto interessanti. Sono molto curioso di andare a vedere questa serie TV, che appunto uscirà per ora solamente in inglese, il 3 gennaio 2021. Parlando di Disney+, e sempre della Marvel, finalmente è uscito lo stranissimo e particolarissimo trailer di WandaVision, la prima serie TV Marvel ad approdare finalmente su Disney+. Dovrebbe arrivare in questi mesi, cioè prima della fine del 2020. Un trailer molto molto bello, molto particolare. Io sono molto curioso di vedere questo WandaVision, perché effettivamente si sa molto molto poco, e quindi sono curioso di vedere come gestiranno tutta la faccenda, soprattutto dopo quello che sappiamo dai film. Un trailer molto molto particolare, ma molto interessante, sicuramente. Non vedo l'ora di vederla. L'altro trailer è quello di The Witches, tratto dal libro di Roald Dahl. Uscirà tra pochissimo il 22 ottobre su HBO Max, quindi non si sa se e quando raggiungerà l'Italia. E tra il cast abbiamo Han Atway, che va a interpretare appunto la strega suprema, e anche Octavia Spectre. Questa non è la prima volta che il romanzo Le Streghe di Roald Dahl viene adattato. Infatti la prima volta fu nel 1990, con il film Chi ha paura delle streghe, che sicuramente molti di voi conosceranno, e che tra l'altro è anche disponibile su Netflix, se volete vederlo. E infine abbiamo l'ultimo trailer, una notizia che mi è arrivato direttamente come una sassata, perché uscirà il 28 ottobre The Craft Legacy. Alla fine degli anni 90 uscì questo film, intitolato appunto The Craft, in Italia Giovani Streghe, che per me è stato un tassello fondamentale dell'adolescenza. Io sono fissato con le streghe, e al periodo questo fu un film con cui, ecco, un'ossessione davvero molto molto grande. E a quanto sembra, questo The Craft Legacy è un sequel diretto del primo film, cosa che non mi aspettavo. Inizialmente quando è uscito questo trailer pensavo che fosse una reboot o un remake, o che so io, invece è un sequel. Non lo so, non so che cosa dire. Sicuramente lo vedrò, perché sono molto curioso. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Il trailer è abbastanza anonimo, devo essere sincero, non mi ha detto particolarmente niente. Anzi, l'ho trovato... è un horror soprannaturale. Non so che cosa aspettarmi, sicuramente però lo vedrò. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ora, io vi aspetto nei commenti per commentare tutte queste cose nuove che sono uscite insieme. Fatemi sapere qual è la notizia che vi ha colpiti più e quella che vi ha resi più felici o più tristi, perché ecco, le prime notizie sono state abbastanza difficili da digerire, ancora adesso. Vi ho detto, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!